se passiamo paterniti allora cominciamo dalla fine giusti sorrisi perché si vince con i calci di rigore l'avevate preparato a questo cambio tra te e Andrade nei due rigori? Ci abbiamo pensato sul momento sì prima avevamo parlato anche col mister il terzo è stato un pochettino improvvisato così però c'è grande sinergia tra me e Andrade che è un mostro sacro di questo sport non a caso un mio portiere 2018 e per me è tanto un onore poter anche se oggi non ho giocato e magari avrò meno spazio anche domani spero di poter aiutare quando quando è possibile come oggi anche senza toccare una palla senti partiamo dalla dalla fine cioè sei stato come il fachiro ha ipnotizzato i cobra cioè i fratelli martins hanno tirato alle stelle cioè gli hai guardati degli occhi non hai neanche toccato il pallone ho aspettato ci siamo guardati ci siamo guardati fino alla fine ho aspettato fino alla fine e sono riuscito magari a metterlo un po' di soggezione anche la grande esperienza di Andrade con la mossa del cambio quando già lui era pronto è stata un anche è stata determinante parliamo della partita però una fatica una faticaccia l'avete presa spada da ex ha fatto degli interventi straordinari non benissimo però siete in finale grandi complimenti a Stefano che ha tenuto a galla una partita ha fatto delle grandissime parate oltre sappiamo tutti conosciamo tutti in Italia il valore di Stefano in Italia e all'estero però ci avete creduto fino alla fine sì siamo stati bravi a non gettare mai la spugna a stare sempre in partita anche quando le cose andavano per il peggio e penso che queste siano le vittorie o quelle più gratificanti ma anche quelle più significanti perché fanno capire che siamo un gruppo unito che ci crediamo fino alla fine e che non molliamo mai grazie a tutti grazie a tutti